Ciao a tutti! Oggi parleremo dei migliori friggitrici ad aria calda su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link dei migliori friggitrici ad aria calda che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più, ricordati di iscriverti al canale, e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte, sconti ogni giorno, link in descrizione, iniziamo! Airfryer Mini 4615.000 Watt 2 litri, fritture senza grassi, grazie alla cottura ad aria calda prepari i tuoi fritti con un solo cucchiaio d'olio, per serate fra amici, prepara tanti piatti, Airfryer Mini è da 2 litri, ha il cestello antiaderente e arriva a 200 gradi centigradi di temperatura, formato super compatto, per chiama preparare mini porzioni di assaggi e contorni, Airfryer Mini ha un design compatto e salvaspazio, prepara ricette sfiziose, adatta a carne, pesce e verdure, puoi cuocere, arrostire e grigliare con l80% di grassi in meno, hai per i più piccoli che per i più grandi, la frittura è sempre buona ma l'olio aumenta la presenza di grassi saturi poco salutari. Prepara il fritto con la cottura ad aria calda di Airfryer Mini. Porterai in tavola piatti più sani senza rinunciare alla croccantezza e al gusto, la friggitrice ad aria è la scelta giusta per cuocere il fritto che vuoi senza odori e fumi in casa. Grazie alla cottura ad aria calda all'interno della friggitrice. Gli odori e il fumo non fuoriescono. Princess Friggitrice ad aria calda XL 182-020, 1500 W, 3.2 litri, versatile, griglia, arrostisci e cuoci i tuoi piatti preferiti con meno calorie, mantenendo lo stesso gusto e consistenza di una normale friggitrice. 80% di grassi, friggi gli alimenti solo con l'aria calda, grazie alla tecnologia di circolazione dell'aria ad alta velocità, facile da usare. Le 7 funzioni di cottura, il controllo regolabile della temperatura, il timer integrato e il pannello di controllo digitale renderanno. Cucinare un gioco da ragazzi. Capienza quarantesima, l'elevata capacità, 3,2 L, permette di cuocere patatine per 5 porzioni in una sola volta, facile da lavare, componenti estraibili antiaderenti lavabili facilmente con una spugna non abrasiva. La Princess Quarantesimo rende possibile friggere, cuocere, grigliare e arrostire pietanze salutari per tutta la tua famiglia. La capacità di 3,2 litri rende possibile friggere fino a 5 porzioni di patatine croccante e deliziose in una volta sola. Grazie al display digitale e le 8 impostazioni preprogrammate preparare il cibo nell'aerofraier è facile e veloce. La friggitrice ad aria ideale per quelle serate impegnate in cui vuoi mangiare cibo sano e pratico, ma gustoso. Philips Airfryer HD 9216-80 friggitrice l'oil e multicooker con tecnologia Rapider, tecnologia brevettata Philips Rapider, un turbine d'aria rovente all'interno dell'area di cottura, ottima per friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno, capacità 0,800 kg per preparare fino a 4 porzioni. Cucina in maniera più sana e gustosa e ottieni facilmente patatine, crocchette e polpette croccanti fuori e morbide dentro, con un solo cucchiaio d'olio, basta cibi grassi, timer e controllo della temperatura regolabili. Ridotta emissione di odori, facile da pulire. L'innovativa tecnologia Rapider di Philips ti consente di friggere utilizzando l'aria per ottenere pietanze croccanti fuori e tenere all'interno. È necessaria solo una piccola quantità di olio per ottenere una consistenza perfetta e risultati davvero saporiti. Il cassetto rimovibile con rivestimento antiaderente e il cestello possono essere lavati facilmente e velocemente in lavastoviglie, grazie alla tecnologia Rapider, la friggitrice Airfryer fa circolare l'aria calda attorno al cestello di cottura in rete metallica. Così sarà sufficiente poco o quasi niente olio per friggere, cuocere al forno e grigliare. Il design a stella marina sul fondo di Airfryer facilita la circolazione dell'aria, garantendo una cottura uniforme per tutti i tuoi cibi preferiti. Il timer integrato consente di preselezionare tempi di cottura fino a 30 minuti. La funzione di spegnimento automatico prevede un segnale acustico di avviso. Il controllo della temperatura regolabile ti consente di preimpostare la migliore temperatura di cottura per i tuoi cibi. Fino a circa 200 gradi centigradi. ProScenic T21 friggitrice ad aria, controllo con app Alexa e display letto cabile, funzioni timer, preriscaldamento, programmi, senza BPA e PFO per patatine fritte, ali di pollo pizza. L'app ProScenicom ti offre 29 di ricette in tagliano e preimpostate. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull'app. In questo modo puoi portare in tavola un fritto gustoso ma sempre sano, leggero e sicuramente anche semplice da digerire. Perfetto per tutta la famiglia, progettato con tre funzioni di combinazione, programma e preset e mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre, tutto dipende dalle tue esigenze. Aria calda ad alta temperatura a 360 gradi viene distribuita in tutta la cavità della macchina e l'effetto di cottura è aumentato al 30%. La veloce circolazione dell'aria blocca rapidamente l'umidità all'interno del cibo, rendendo il cibo croccanti fuori e teneri dentro. Con l'applicazione ProScenic puoi controllare la tua friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Inoltre, ci sono diverse ricette personalizzate e ti permette anche di collegare Alexa per il controllo vocale. La friggitrice ad aria è in possesso di un pratico cestello, rimovibile in modo semplice dalla friggitrice e che può essere lavato direttamente in lavastoviglie grazie al rivestimento in teflon antiaderente. Tutti, con questo strumento in mano, possono diventare dei veri e propri chef. Mulinex EZ4018 Easy FR Y Deluxe friggitrice ad aria calda 4,2 litri. 1500 Watt, friggitrice senza olio con 8 modalità preimpostate. Capacità quarantesima fino a 6 persone, da 80 gradi a 200 gradi centigradi. La friggitrice ad aria Mulinex è pensata per preparazioni leggere e sane. Senza l'uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili. Goditi una frittura sana con le 4 possibilità di cottura, friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Scegli la ricetta che preferisci, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti. Sfrutta le 8 modalità preimpostate, patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto, per cucinare in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Ispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico, grazie al cestello brevettato, la griglia è rimovibile e aiuta a catturare l'olio sul fondo. I componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento. Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto, e se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace. Alla prossima! Grazie a tutti!